Con il lavoro di agente immobiliare si soddisfano due desideri in un colpo solo, quello del venditore e quello del compratore. Cosa c'è di più appagante del sapere di aver reso felice le persone? Mi piace, mi appassiona, mi gratifica, mi incentiva a fare ancora meglio. Ogni giorno. La casa è il bene materiale più prezioso. Per la maggior parte delle persone l'acquisto di un immobile è il sogno di una vita. Per questo il nostro ruolo è molto più importante di una semplice mediazione. I miei clienti mi riferiscono le loro ansie, preoccupazioni, i loro obiettivi, gli ostacoli che hanno trovato fino a quel momento. C'è chi prova a vendere la casa da mesi senza risultati, chi ha avuto la processione ma neppure una trattativa, chi dall'altra parte ha visitato decine di case ma nessuna corrisponde alle proprie esigenze. Eppure in foto sembrava così bella, così grande. L'agente immobiliare è semplicemente una persona che risolve un problema fondamentale ad un'altra persona. Cosa fa la differenza tra un agente e l'altro? Il modo in cui lo fa. Cura dei dettagli, gentilezza, empatia, precisione, competenza, utilizzo di strumenti professionali sempre aggiornati. Il tempo da dedicare alla propria formazione e alla crescita personale. Offrire un servizio di qualità ed innovativo è fondamentale in un mercato sempre più competitivo. Ma tutto è inutile se non c'è la passione per ciò che fai. Se vuoi vendere o acquistare casa, ti aspetto in agenzia per conoscerti e aiutarti a raggiungere l'obiettivo. Sarà una bella avventura da vivere insieme. Ti aspetto!